30 secondi da giocare nel primo tempo dalla piscina di Antipo, Flavio Tranquillo e Francesco Fischetto per tele più due, bomba di Petar Naumovski e se continuo così va benissimo. Ancora una rimessa dalla linea di fondo, il blocco di Rusconi è pronto per il palleggio di Petar Naumovski che va in arresto e tiro a centro area, eccellente cosa di Naumovski. La pallacanestro contro il Real Madrid è arrivato all'antiva, campionato iniziato a prendere il posto di Henry James, lo ricorderete, ex americano della Scavolini mentre Naumovski segna, subisce il pallo, andrà in lunetta col tiro libero supplementare, importante anche l'inizio di Naumovski che dà molta sicurezza ai compagni contro David Rivers. Ulrich intanto va a lavorare abbastanza bene su Ostrowski, è entrato in campo Vianini al posto di Stefano Rusconi mentre Naumovski continua ad impassare, questo finora è il punto di riferimento più chiaro per l'avversaria perché sanno di non essere dei grandissimi difensori su un'azione lunga 20 secondi. Due contro uno concluso bene da Naumovski, Mike Zantoni ha detto ai suoi giocatori, se superiamo la linea di metà campo c'è uno contro uno di Pitis, penetra per scaricare, trova Naumovski, tiro in equilibrio del Macedone che va a bersaglio, sedicesimo punto di Petar Naumovski. Sollevare la responsabilità di regia Naumovski che stasera è in gran serata di tiro ed ecca la dimostrazione. Gran canestro su un ottimo assist per Lavelewski, a Rusconi da servire in pivot basso, Rusconi si alza per favorire il palleggio del suo playmaker che si butta dentro, conclude in sottomano, non c'è grande aiuto anche perché in questo home sono due fischi veramente buoni. Naumovski batte il pressing, si prende questo tiro da tre e lo mette la bomba di Petar Naumovski. I 14 punti di Willy Redden in questa partita, Jacopini pesca molto bene il taglio backdoor dietro alla difesa di Petar Naumovski, Rivers molto sveglio nella linea davanti di questa zona, Naumovski a spazio da tre, Petar Naumovski ancora bersaglio e sono a spazio, finito da tre, scarica per Naumovski, ancora carica il tiro e il Macedone brucia la retina. Il campo dei campioni vinta a Lausanne riceve Naumovski, può sparare da tre ed è ancora un miffile di Petar Naumovski. Per di D'Antoni, Rivers si butta dentro, palleggio a resto e palla rubata da Naumovski con una lettura notevole e adesso vedo l'Antibi in difficoltà, non riesce neanche a pressare. Wurridge per Gracis in palleggio Naumovski contro Billy Joe Williams, bisogna far passare il tempo, assolutamente 46 secondi al termine, 14 al termine dell'azione, Pianini pronto a portare il blocco per Naumovski, si butta dentro Naumovski, trova Wurridge che segna e subisce il fallo.